buongiorno amici guerrieri questo periodo storico è talmente distruttivo e talmente connotato dalla caratteristica di far franare ogni tipo di certezza ogni tipo di sicurezza, ogni tipo di logica è così connotato dalla violenza a volte sottile certe volte addirittura non percepibile dalla paura che serpeggia proprio nell'energia delle nostre strade mentre si cammina guardando l'espressione delle persone espressione tra l'altro ormai coperta e quindi si possono leggere gli occhi che è un periodo che invita sempre di più a riflettere e ovviamente io approfitto di certi momenti di quiete in cui mi posso appartare e in cui posso rimanere completamente solo con me stesso per riflettere ma ovviamente riflettere anche su di me è naturale su tutto quello che ho appreso dalla mia vita e che ho appreso dai maestri che ho avuto direi soprattutto dai maestri che non ho mai conosciuto direttamente tra i quali a Novero Willem Reich questo psichiatra così tradito così vituperato o addirittura così sconosciuto pur essendo un genio che ha intuito tantissime cose e ho ripreso in mano un mio vecchio libro La ricerca dell'amore è il primo libro che ho pubblicato e a cui sono molto affezionato in cui in fondo racconto la mia storia una storia che avviene attraverso un personaggio che ho chiamato Auro e ovviamente c'è un riferimento ad Auro Bindo Sri Auro Bindo Auro sono io e questa storia è la storia non tanto della mia vita ma della mia vita interna in fondo la vita esteriore è quella meno importante o è quella che non fa vedere ciò che ognuno di noi è all'interno di sé e quindi riprendevo alcune cose di Reich alcune frasi di Reich soprattutto riferendomi al libro Assassino di Cristo di Willem Reich che ho nominato ormai centinaia di volte perché è un libro che mi è molto molto entrato dentro nel cuore e che ho letto a vari a vari livelli nei vari anni cogliendone la profondità considero il libro di Reich l'Assassino di Cristo un libro iniziatico e non sto esagerando e quindi Cristo è il Reich la metafora dell'uomo integrale dell'uomo completo che è in contatto profondo con se stesso è una prima frase che vi voglio leggere parlando della figura del Cristo appunto anche come metafora di questo uomo integrale Reich scrive Cristo da liberamente può dare liberamente perché ha una capacità infinita di assorbire energia vitale dall'universo è tanto pieno di forza da traboccare non perde nulla quando dà liberamente agli altri al contrario diventa più forte e ricco quanto più egli dona in forza e amore tanto più forza acquista dall'universo tanto maggiore stretto è il suo contatto con la natura che lo circonda tanto più netta la consapevolezza di Dio della natura dell'aria degli uccelli dei fiori degli animali di tutto ciò che gli sta vicino c'è già tantissimo in questa frase c'è il senso reale dell'amore il senso vero dell'amore che non è un sentimento è molto di più è una forza e Reich lo dice apertamente Cristo dà liberamente cioè è proprio la sua natura è la natura profonda di un essere umano integro a contatto con la propria verità direi anche addirittura con la propria verità biologica e dà liberamente perché ha una grande capacità infinita dice Reich di assorbire energia vitale dall'universo quindi cosa sta dicendo ma senza mezzi termini che noi siamo immersi nell'energia vitale dell'universo e la possiamo assorbire anche coscientemente se però siamo aperti se non siamo imprigionati nella rigidità della nostra struttura mentale emotiva pulsionale biologica biologica non solo ma dice Reich più egli dona in forza e amore tanta più forza acquista dall'universo cioè più dà più gli viene restituita energia forza dall'universo è meraviglioso è meraviglioso a questo punto che senso ha parlare di universo di Dio dobbiamo comprendere non attraverso le parole ma i significati essenziali e reali dei fenomeni siamo immersi nell'universo e riceviamo continuamente dall'universo più noi ci apriamo all'amore più ci apriamo all'impulso naturale di donare queste cose non le sta dicendo un maestro spirituale anche se a mio avviso questo è essere realmente un maestro spirituale lo sta dicendo uno psichiatra uno psicanalista che non ha mai professato direttamente una spiritualità di facciata ma che è molto più spirituale di tante persone che parlano continuamente di spiritualità in realtà Wilhelm Reich ha dimostrato con l'esempio tutto questo ha donato fino all'ultimo ed è morto per questo per non tradire la sua verità è morto in carcere e continua in questa frase Wilhelm Reich a dire che l'essere umano integrale il Cristo è in contatto con tutta la vita con tutta la natura che lo circonda con l'aria gli uccelli gli esseri viventi e che questo contatto è maggiore tanto più grande la consapevolezza di Dio e della natura che in fondo i Reich vengono fusi beh rileggere queste cose adesso mi ha arricchito molto e mi ha fatto riflettere molto perché in un'altra parte del suo pensiero Wilhelm Reich dice testualmente la verità la verità è pieno ed immediato contatto tra il vivente che percepisce e la vita che è percepita quindi il contatto tra noi e la vita che è percepita produce verità se il contatto è reale tra noi e la vita tra noi e la natura questo contatto è un contatto di verità e continua a Wilhelm Reich che l'esperienza vera e autentica è tanto più completa quanto migliore il contatto quindi se non è uno pseudo contatto così come noi siamo abituati ormai ad avere con gli altri e con gli esseri viventi se questo contatto è vissuto è percepito in un corpo vibrante e quindi in un essere vibrante quello che noi riusciamo a cogliere è la verità che diventa non più un concetto ma è un'esperienza è un'esperienza di sé ed è un'esperienza della vita ma udite udite continua Wilhelm Reich dicendo testualmente la verità quindi è una funzione naturale naturale nel mutuo rapporto tra il vivente e ciò che è vissuto quindi la verità non è filosofia non è ideologia secondo Wilhelm Reich e non soltanto secondo Wilhelm Reich ma è l'assunto dei grandi maestri ma è un'esperienza la verità è una coscienza profonda di sé che nasce dal contatto profondo con noi stessi e con la vita che è percepita in questo discorso quindi probabilmente dovremmo cominciare a cambiare i parametri anche con cui valutiamo certe parole a cui diamo significati scontati senza riflettere quando parliamo di corpo per esempio quando parliamo di mente quando parliamo di coscienza che cos'è il corpo immediatamente quando noi pensiamo al corpo pensiamo ai muscoli alle ossa a tutto l'apparato circolatorio agli organi certo il corpo è anche questo ma il corpo è emozione ricordiamoci il corpo è emozione un corpo vivo è un corpo che sente e che ha emozioni che ha impulsi e che ha sentimenti anche questo lo riusciamo anche a capire anche attraverso la neuroendocrinologia ma forse c'è più difficile comprendere che anche la mente è corpo la mente cognitiva la mente razionale la mente che noi conosciamo è corpo cioè il corpo è l'individuo il corpo è l'individuo la struttura dell'individuo che comprende funzioni mentali funzioni emotive pulsioni sensazioni e che comprende tutta l'organizzazione cellulare quindi dire che c'è il corpo e la mente è continuare un errore di divisione il corpo comprende la mente la mente è una funzione la più evoluta possibile del nostro corpo ma c'è la coscienza ecco forse dovremmo cominciare a comprendere che la coscienza non è la mente la mente è l'apparato la struttura mentale cognitiva è l'apparato come è un apparato tutto il sistema neuroendocrino è come è un apparato tutta la nostra struttura individuale e al centro di tutto questo meraviglioso incredibile apparato individuale che ha una forma che ha anche una personalità c'è un fulcro c'è un nucleo c'è un nucleo c'è un nucleo che parla di questo nucleo ne parla ovviamente con un suo linguaggio che non è quello che normalmente è il linguaggio spirituale ma se ascoltiamo attentamente le sue testuali parole ci rendiamo conto che sta parlando d'altro sta parlando di un nucleo che non è la mente così come la concepiamo ma che è un centro di ogni essere umano bene cosa dice Wilhelm Reich l'uomo intendendo l'essere umano è assieme a tutti gli altri esseri viventi un frammento di energia cosmica lui la chiamava energia organica cosmica energia della vita dell'organismo e questo frammento di energia organica cosmica è specialmente specialmente organizzato e continua poiché l'io è un frammento di energia organica cosmica organizzata quindi l'io di ognuno di noi il centro proprio di coscienza di ognuno di noi è un frammento di un'energia cosmica universale beh la possiamo chiamare il divino la possiamo chiamare in mille modi non importa il concetto è che la nostra identità più profonda il nostro nucleo è un frammento dell'energia organica dell'energia organica cosmica è la goccia dell'oceano quando in altri linguaggi si parla del divino interiore immerso nell'oceano del divino usando un linguaggio più spirituale e fa un'affermazione ulteriore stiamo attenti rileggo la frase poiché l'io è un frammento di energia organica cosmica organizzata questa piena consapevolezza individuale quindi la piena consapevolezza di sé è un passo avanti nello sviluppo funzionale della stessa energia organica cosmica quindi questa energia organica cosmica attraverso un suo frammento diventa un io in ognuno di noi e più è consapevole questo io più questa energia organica cosmica si realizza in questa consapevolezza ma non è finito qui non è finito qui perché più avanti scrive sempre Wilhelm Reich prima che esistesse una vita qualsiasi quindi che ci fosse la vita sulla terra che ci fossimo noi ma proprio che ci fosse la vita dai primi parameici quindi prima che esistesse una vita qualsiasi vera il fluire dell'energia organica cosmica prima quindi c'era questa energia organica cosmica che poi ha dato forma attraverso i suoi frammenti alla vita pensate un po' quindi l'uomo è un frammento di questa energia e nell'essere umano questa energia cosmica produce un livello più avanzato di evoluzione che è l'io la consapevolezza di sé ma nel caso in cui pensiate che io sto farneticando sto forzando la mano a questa interpretazione vi leggo un'ulteriore affermazione di Raek sempre su questo argomento pertanto continua Wilhelm Raek nell'autoconsapevolezza e nell'anelito alla perfezione della conoscenza della piena integrazione delle proprie biofunzioni l'energia cosmica diviene consapevole di sé l'energia cosmica diviene consapevole di sé attraverso di noi di ognuno di noi ma questo non viene detto nei veda non viene detto in tante tradizioni e continuo ancora Wilhelm Raek testualmente in questo divenire consapevole di sé nel conoscere se stessa nel crescere nella coscienza di sé ciò che si chiama destino umano è tolto dal campo del misticismo e della metafisica esso il destino umano diviene una realtà di dimensioni cosmiche che si fonde comprensibilmente con tutte le grandi filosofie e tutte le grandi religioni dell'uomo ed intorno all'uomo io non ho quasi parole per commentare tutto ciò perché è qui è chiaramente qui che cosa c'è da aggiungere se non altre affermazioni che possono ulteriormente dare un significato a queste parole sempre di Reich dice Reich ho esitato ad ammettere che la vera religione potrebbe essere tanto razionale nonostante tutte le sue distorsioni mistiche cioè che potrebbe esservi una cosa come un nocciolo razionale di tutte le credenze religiose in un potere razionale oggettivo che governa l'universo lui usa la parola razionale potremmo dire intelligente quindi ha fatto fatica ad ammettere che c'è al di là dei misticismi al di là di tutta una serie di costruzioni magari metafisiche Reich dice c'è un principio intelligente nell'universo e addirittura dice se tutte le funzioni che sono al di sotto dell'intelletto conscio sono irrazionali quindi tutto quello che sta sotto il piano mentale fosse irrazionale com'è possibile che la vita abbia funzionato bene molto tempo prima dello sviluppo della ragione cioè cos'è che governa l'universo come ha fatto a funzionare come fa a funzionare in questo modo completo armonioso e continua non può esservi dubbio le funzioni naturali sono fondamentalmente razionali cioè intelligenti io credo che l'orientamento che dovremmo cominciare ad avere è proprio sentire che noi siamo un'unità e dovremmo cominciare a fidarci profondamente dell'armonia del nostro corpo intendendo corpo così come l'ho espresso in questo video l'insieme di tutte queste funzioni anche quelle mentali abbiamo perso la fiducia nel nostro corpo abbiamo perso il contatto con il nostro corpo con la nostra energia vitale ecco perché abbiamo così paura abbiamo paura della morte perché siamo morti lo sto estremizzando ma cercate di comprendermi siamo già morti dentro o perlomeno chi è morto dentro non può che già vivere la paura della morte perché la percepisce in sé e ovviamente quando questa paura è attivata ulteriormente da un bombardamento continuo è ovvio che tutti coloro che hanno questa fragilità che non hanno questo contatto profondo si sentono smarriti e corrono ai ripari e vogliono credere nella salvezza esterna ma la morte ce l'hanno dentro se attivassero e cominciassero partendo da sé a riattivare la vita la percezione la percezione di sé della propria vita già questo sarebbe sufficiente non potrebbero avere paura della morte e recupererebbero la fiducia anche biologica di poter far fronte a quelle insidie che vengono amplificate dal potere vi auguro ogni bene non potrebbero non potrebbero